di non badare a ciò che la gente pensa di noi e di vedere le situazioni difficili come occasioni per far del bene. Un giorno di festa non solo per i papà a ricevere gli auguri e anche Francesco in questa domenica 19 marzo in cui ricorre il decimo anniversario dell'inizio del suo pontificato. Il Presidente della Repubblica